Un omaggio all'insegna della devozione e dell'amore, quello che circa 25.000 fedeli hanno reso alle spoglie di Padre Pio da Pietralcina e Padre Leopoldo Mandic, scelti da Papa Francesco come testimoni speciali per l'anno straordinario della misericordia. Una lunga processione, guidata da Monsignorino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, è partita dalla chiesa di San Salvatore di Lauro, nel centro di Roma, dove le reliquie dei due santi erano arrivate giovedì scorso. Dopo il passaggio a via della conciliazione, l'arrivo in piazza San Pietro. Il cardinale Angelo Comastri, vicario generale del Papa per lo Stato della città del Vaticano, nel suo breve saluto ha messo in luce l'amore dei due santi per il confessionale. Qui migliaia di persone, grazie alla loro intercessione e alla misericordia del Padre, hanno scoperto la gioia di credere in Gesù. Questi giorni, affermato il porporato, sia un'occasione per ritrovare il fervore della fede e l'entusiasmo missionario che ha caratterizzato la loro vita. Dopo il canto delle litanie dei santi, le spoglie sono state collocate presso l'altare della confessione a seguire il rosario e l'omaggio di tantissimi pellegrini.